Non è donati il Deus, ex macchina della crisi amministrativa, che ha travolto il Comune di San Benedetto. Parola di Nazareno per tutti i reno Menzietti, consigliere del PD, che in raccordo con il compagno di partito Libero Cipolloni, ha deciso di non partecipare all'ultimo Consiglio Comunale. Una scelta che ha messo in difficoltà la maggioranza che da sola e in prima convocazione non ha potuto aprire l'assise. Un chiaro segnale di dissenso che è stato interpretato in tanti modi, c'è chi ha avanzato l'ipotesi che la scelta di Menzietti e Cipolloni fosse dettata dall'amico Sandro Donati. L'assessore regionale al Piceno vedrebbe infatti a rischio la sua ricandidatura e starebbe facendo la voce grossa per affossare le velleità dell'ala Gaspari per Azzogli Agostini. Menzietti però chiarisce di muoversi senza le indicazioni di nessuno. Mi preme a sottolineare ancora una volta che nulla c'entra all'assessore Donati con la situazione locale, politica locale di San Benedetto del Tronto. Benvenga la terza ricandidatura per l'assessore dal quale io sono legato a un semplice motivo di amicizia, ma diversa è la situazione che stiamo vivendo in questo momento. Quindi ci sono questioni politiche alla base di questa sua decisione di non partecipare al Consiglio Comunale o eventualmente di non votare il bilancio al prossimo Consiglio? Certamente, ci sono ragioni politiche, le ragioni sono state anche evidenziate in questi giorni in diverse conferenze stampa. È inutile negare che l'amministrazione difetta in qualcosa, ci sono problemi all'interno dell'amministrazione. Parliamo dell'urbanistica per esempio che è un grosso scoglio per il Sindaco e per la Giunta. E ora non resta che aspettare, vedere come i due consiglieri del PD, cioè Menzietti e Cipolloni, si muoveranno in vista della prossima assise del 23 dicembre, quando bisognerà decidere se votare o meno il bilancio. Il fatto che poi noi al Consiglio parteciperemo, voteremo o non voteremo, questo lo stiamo ancora valutando, stiamo studiando il bilancio in questi giorni, certo è che appare remota la possibilità di poterlo votare. Però parteciperete probabilmente? Parteciperemo, sì. Dunque a salvare Gaspari potrebbero essere solo Edio Costantini e Antonio Felicetti della lista Martinelli, un accordo trasversale per evitare il commissariamento, ma non la resa dei conti tutta interna al PD.